Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamo. E oggi proviamo insieme un gioco che mi avete suggerito già più volte, ovvero Animal Well. Questo gioco qua, a quanto pare, sta avendo un gran successo. Ci sono un sacco di recensioni molto positive su Steam. Semmerebbe essere una sorta di platform in pixel art che però ha molto a che vedere con il modificare l'ambiente circostante, sembra essere molto peculiare, quindi non so bene cosa aspettarmi. Vediamo un po'. Vai, nuova partita. Mi sa tanto di gioco un po' psichedelico. Svegliati, ok. Sono una pallina... Sono una buffa pallina che fa cose. Paolo? Uovo del trifoglio. Ok. C'è qualcosa che posso fare io, tipo... Posso solo saltellare quella? Oltretutto... Questi colori un po' neon... Wow. Ok. Non dovevo morire lì. Non è proprio super intellegibile lo scenario. Vuole un attimo capirlo. Wow. Qui sta andando? Cosa abbiamo qua? È grande, ok. Cos'è? Bloccata. Eh, cacchio, aspetta. No! Bene, quindi? Adesso l'ho fottuto io qua. No, aspetta. Posso andare di qua. Eh. Dove finisco? Ma... Ma... Ma che... Che storia. Sto tornando qui. Grande. Ok. Quindi c'era un modo per tornare indietro. A posto, ok. Telefono. Trovare il tuo po' che essi? Ok. Questo si può salvare. È strano. C'ho sta pallina qua che... Ci sarebbe questo inventario. Oh! Ehm! Mi ha smolecolato. Non... Sembrava essere molto amichevole. Via! Ok. Vediamo un po'. Dove si va di qua? Oh! Grande! Ok, si è aperto. Quindi... Raccogli petardo. 3 su 3. Ok. Ehm. Questo lo posso lanciare? Però per farci cosa? Dove lo dovrei lanciare? A chi? Ah, grande! Ah! Che figata! Ho detto che a volte si capisce proprio poco il livello, devo dire. Questi colori che sono affascinanti, però maledizione! Salviamo i po' che essi di nuovo, ok. Ehm... Però ho anche capito come superare quella parte lì, perché questo posso prenderlo. Ehm... Non penso di poterci arrivare a prendere quella cosa lì. Uh! È un coniglio gigante. Ehm... Questo era un segreto, mi sa. Eh, ok, ma... Che cosa ci ho guadagnato in tutto questo? Non ho mica capito. Ah, aspetta, guarda. Mappa, mappa. Ok, oh. Ok. Va bene. E? Vogassi a salvare. Ok. Mangia frutta. Ok. Eh, ci sono dei punti in cui veramente non si capisce un cavolo di quello che c'è a schermo. Faccio veramente fatica a vedere i punti in cui dovrei tecnicamente salire... Franco Bolli. Cos'è sta cosa? Aspetta. Non sono le due uova che ho già preso. Ah. Ok, proviamo a mandare di qua. Questo scogliattolo che fa? Questo è inquietante, devo dire. Prendi il disco. Oh, cacchio. No, 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 no. Ciao, ne? Eh, va bene. Ciao, ne? Come, come, come diavolo? No. 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 Sono morto. Ok. Non c'ho manco i petardi. Vabbè, proviamo ad andare di qua, va. Eh. E tutto sommato è anche un po' inquietante sto gioco, devo dire. Ciao, papera. Ah. Un coniglio. Ok. Due topi. Per qualche ragione. Questa è bloccata. No, cos'è qua? Ops. No, di qua va. Come faccio ad arrivarci lì? Aspetta, forse... Sì. No. Ok. Merda. Sto girando veramente un po' tanto a caso, io. Telefono. Questa è bloccata, ok. No, non... No, sei solo spaventato. Questo non si può aprire. E qui... No, qua ci devo... Ci devo arrivare. Qui è tutto completamente buio. Minchia, che delirio, ragazzi. Nel senso è... È veramente un po' assurdo sto gioco, posso dirlo? Ok, ma che cosa ci ho guadagnato? Oh, no. Grazie. Ho composto qualcosa? Candela spenta. E che ci faccio io con la candela spenta? Anche fosse. Boh, non lo so. Me ne era già capitata una, ma... Ok. Questa? pan culo merda aspetta cosa cambia vabbè ma che cosa cosa vuoi che mi cambi francamente vabbè oh no perché sono sopra adesso adesso ho capito ok veramente assurdo ragazzi come dovrei forse così wow ok e che cosa mangia frutta ok va bene allora ragazzi mi sta facendo male il cervello vi giuro perché è veramente un po' alienante come cosa sembra una via di mezzo tra un trip anni 70 e donni d'arco quindi non saprei bene come come classificarlo però è affascinante è che è veramente tanto strano questo gioco come come è strutturato quindi affascinante ho capito perché sta piacendo a tante persone non so se fa per me comunque contento di averlo provato se non altro poi vediamo se portare una serie o meno perché sembrerebbe davvero carino però vabbè insomma devo decidere e fatemi sapere che ne pensate d'accordo ragazzi grazie a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad amazon instant gaming e il link a patreon link alla playlist con tutti quanti i video della serie proviamolo e anche il link per acquistare il gioco e se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale d'accordo gente? a presto